Siamo partiti un po' così, anche un po' dedupanti, perché a volte le televisioni magari a livello nazionale danno dei grandi risultati, magari a livello locale sembrava, invece si siamo ricordati molto. Abbiamo avuto un bel risultato, molti clienti ci hanno detto, a parte ci hanno visto il nostro spot iniziale e la nostra festa di primavera. Più dopo abbiamo visto anche il rinnovo dei clienti, quindi tanti clienti nuovi e abbiamo anche dopo successivamente fatto un'ulteriore sponsorizzazione di altri due mesi, se non sbaglio, e quindi siamo rimasti molto contenti, soddisfatti.